Il mondo fisico e il mondo digitale per le librerie sono, si può dire ormai, un tutt'uno, nel senso che i librai sono abituati a fare un uso costante delle piattaforme social, dei siti web, delle app, perché sono gli strumenti più economici e diretti con cui parlare ai propri clienti. Ormai è sotto gli occhi di tutti che le librerie sono in una fase di crescita in termini di quota di mercato e l'e-commerce è in una fase di regressione. Questo accade perché i clienti si sono ormai divisi l'utilizzo di questi due canali. Se sono guidati da logiche di approvvigionamento, quindi ampio assortimento a casa comodamente, si orientano sull'e-commerce. Se invece sono orientati al piacere di un'esperienza immersiva vanno in libreria, non c'è dubbio. Ed è per questo che oggi tutti noi sappiamo e siamo consapevoli che le librerie sono eterne. Cinque anni fa questa cosa non era possibile affermarla.